Ciao ragazzi e benvenuti in un nuovo video! Allora, inizio questo video proprio chiedendovi scusa perché vi ho fatto aspettare anche troppo infatti l'ultimo video che avevo fatto è stato proprio lo speciale compleanno il mio compleanno è passato da un po' ormai quindi per dire come potete vedere sono in tuta perché mi sto allenando veramente tanto in questo periodo che non riesco più a caricare video non riesco più a registrare perché mi sto allenando mattina, pomeriggio, a momenti pure la notte quindi praticamente ho tantissime cose da fare che non sono riuscita più a fare video quindi vi chiedo scusa se vi ho abbandonati detto questo ho deciso di fare questo video perché c'è una persona di voi che praticamente a me ha molto colpito il suo canale vi ho dato uno sguardo praticamente è un canale molto molto bello adesso vi faccio vedere la foto detto questo praticamente come ci sono entrate in questo canale ho visto dei dolci ma non i classici dolci che siamo abituati a vedere ma dolci che ti fanno proprio venire la fame ragazzi c'è una cosa allucinante quindi per dire questa persona ha bisogno un po' di pubblico glielo vogliamo dare tanto iscriversi a un canale in più non costa nulla quindi iscrivetevi a questo canale grazie a tutti grazie a tutti